Chi è? Lo sapete chi è? Non è un indovinello che possiede il 2% di Eni, il 2% di Fiat, il 2% di Enel, il 2% di Telecom e da oggi anche il 2% di Mediobanca? Beh, non lo sapete forse, ma è la Cina. Forzandola un po', è come se sullo sfondo del logo di Mediobanca, accanto a Sant'Ambrogio, oggi spuntasse un dragone. La notizia infatti non è solo questione di numeri, sono piccoli quelli che hanno portato la banca centrale di Pechino a rilevare un 2% del più blasonato dei nostri istituti di credito, anzi l'istituzione, punto. Ma è grande l'impatto, la simbologia, è il segno che l'Italia non è territorio di caccia, ma ha aperto le sue porte, altrimenti il super vertice con i big asiatici a Milano. Qualche giorno fa, uno si domanderebbe che l'abbiamo fatto a fare. Eravamo abituati agli arabi, che vedi all'Italia la propria parte l'hanno fatta, ai francesi, più che napoleonici nei loro acquisti, Edison, Parmalat. Di fatto però stavolta non c'è contesa, non c'è attacco, sono acquisti consensuali. Cerchiamo capitali, il ritornello compra Italia, sottotitolo occulto per favore grazie. È stato tradotto in tutte le lingue e l'idioma cinese era uno dei più ghiotti. La stanno i nuovi grandi ricchi, i nababbi, prova nell'aver realizzato il più grande collocamento della storia con Alibaba, la mega piattaforma internet che giorno dopo giorno ha consentito alla Cina di farsi una rete di vendita porta a porta e diventare la potenza commerciale qual è. Si intende collocamento avvenuto a Wall Street, cuore del capitalismo occidentale che ha aperto anche lui rapidamente le porte a tanta grazia. Renzi andò in Cina a giugno e Padoan seguì. E ora siamo qui a parlare della regola del 2, quota percentuale con cui per le leggi italiane si diventa azionisti rilevanti. Si ventilava di nuove tranche di privatizzazioni, così la banca del Dragone ha cominciato con Eni a marzo, poi Enel, una bella fische energetica complessiva da oltre un paio di miliardi. Figuriamoci se si dimenticava di Fiat Chrysler, altro simbolo, un pezzetto di Telecom qui, un altro di Generali là, senza dimenticare i cavi di Prismian, fino ad arrivare oggi all'esternazione di un millimetrico, praticamente perfetto, 2,001% di Mediobanca, la grande madre. Una piccola Chinatown in piazza affari, messa su mattone dopo mattone, sempre con quel 2% ossessivo, costante. Come dire, ecco, ci siamo anche noi, ma sia chiaro, ci avete chiamato voi.